Quali sono i benefici per la salute del triptofano? Il triptofano è un amminoacido richiesto dal corpo umano per processare le proteine. A causa del fatto che il corpo non produce naturalmente questa sostanza nutritiva, l'uomo ha bisogno di acquistarlo da fonti di cibo o integratori di triptofano. I benefici per la salute del triptofano sembrano essere numerosi ed è uno dei pochi nutrienti venduti come farmaci. Serve a trattare il disturbo disforico premestruale, PMDD, aiuta a smettere di fumare e aiuta a regolare il ciclo del sonno e gli stati d'animo di una persona. Durante l'elaborazione delle proteine, il corpo crea serotonina che aiuta a regolare l'appetito e l'umore. Quando il corpo produce serotonina, parte di esso viene convertito in melatonina, il che aiuta a normalizzare i modelli di sonno. Disturbi come la PMDD, disturbo affettivo stagionale, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, sindrome da deficit di attenzione e iperattività, e sindrome di tourette sono tutti causati da bassi livelli di serotonina nel cervello. Aumentando l'assunzione di questo nutriente, attraverso il cibo, gli integratori o la medicina, può potenzialmente aumentare la quantità di serotonina nel cervello, alleviando quindi alcuni dei sintomi di questi disturbi. I ricercatori hanno scoperto che l'uso regolare di prodotti di nicotina come le sigarette cambia l'equilibrio delle sostanze chimiche nel cervello. Anche dopo aver smesso di usare prodotti a base di nicotina, può volerci un po' prima che le sostanze chimiche si stabilizzino di nuovo. Supplementi di triptofano sono stati trovati per accelerare questo processo e possono ridurre alcuni dei sintomi di astinenza associati alla cessazione del fumo. Viene spesso utilizzato in combinazione con altre misure per smettere di fumare ed è stato trovato che aumenta la probabilità di smettere con successo le abitudine al nicotina. Mentre gli studi sono mescolati sull'uso di questo integratore nel trattamento dell'insonnia o dei disturbi del sonno, alcuni hanno scoperto che può aiutare le persone ad addormentarsi più velocemente e rimanere addormentati più a lungo. La melatonina che il cervello crea in risposta all'amminoacide è una delle sostanze chimiche primarie nel cervello che dice al corpo che è ora di dormire. In alcuni casi, i medici possono prescrivere il triptofano in concomitanza con un lieve aiuto al sonno. Medici e ricercatori hanno anche riscontrato il successo nell'uso del triptofano per trattare i disturbi dell'umore, in particolare il disturbo bipolare e la depressione da moderata grave. Questo amminoacido è stato trovato per aumentare la risposta del corpo agli antidepressivi, specialmente in coloro che hanno difficoltà a trovare il farmaco appropriato per affrontare la depressione. La versione farmaceutica del triptofano viene spesso prescritta con il litio per trattare il disturbo bipolare. Può aumentare l'efficacia del farmaco e in alcuni casi ridurre gli effetti collaterali. Oltre a integratori e medicinali, questo nutriente essenziale può essere trovato naturalmente in diversi alimenti. Spesso si crede che il tacchino abbia quantità insolitamente elevate, in realtà non contiene più di qualsiasi altro pollame. I cibi con i livelli più alti sono uova, merluzzo, fagioli di soia e parmigiano. Altre buone fonti sono cioccolato, latticini e semi di succa.